Stamattina con Ivan Santaromita parlavamo delle possibilità di Cadellevans e oggi pomeriggio con Manuel Quinziato e entrambi i suoi compagni parliamo della vittoria di Cadellevans Sicuramente è una grandissima soddisfazione, la squadra ha lavorato il giorno, dapprima collaborando con la Lotto per ottenere la corsa e poi nel finale ognuno in base alle sue competenze per portare Cadelle soprattutto in colume ai piedi dell'ultima breve salita Siamo contentissimi, Cadelle è un bravo ragazzo ed è una condizione stampitosa quindi siamo contenti che abbia finalizzato il grande lavoro della squadra